Ragazzi ben ritrovati con Uncharted ed ho un bel pezzo che non faccio il settimo capitolo quindi eccoci qua vi rispiego che è successo abbiamo finalmente trovato la croce mancante e sì è successo l'ennesimo casino dove devo andare adesso qualcuno mi spiega dove devo andare su o giù qua non c'è niente giù di qua ecco qua sapete no c'è niente o ma ne sbaglio tutte tutte e boh c'è su non c'è niente credo ricontrolliamo un po' no non c'è niente ah sì sì sono troppo abituato con non sono più abituato a sic che cazzo non sono più abituato a giochi che si arrampica oh 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 ahia ci han visti ci han visti all'esterno del campo visivo cosa non ho capito ah capito 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 ahia non mi piace giù ah la merce avevo capito la merda ok sta roba non mi piace per niente dove di qua ovviamente benissimo cavolo in giù oh per fortuna ci han visti forse no per fortuna ah ma non sono stupidi qua mi tengono d'occhio campeta ma qua guarda c'è di qua giù 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 un po' più giù di qua ecco perfetto ok io non so veramente dove devo andare io sto andando a casaccio che debba andare lì anche se è un po' improbabile qua dentro sta cella cosa chiusa che buio ovviamente odio è buio ma dove sta andando vero ecco sono andato al punto di prima mi son perso non so dove andare mi sa che debbo beh si debbo mi vale tagliere di qua grazie però poco eh si molla ecco se cadevi qua come non ti arrampichi qui o qui mi raccomando furtivi ce n'è uno qua dentro no credo spero mi ha visto due mi hanno visto non so se andare di qua e scappare io si si dai di qua non si troveranno mai ma non vengono qui ok allora va bene va bene e adesso di qua 1 2 2 2 3 ci fa bene un affanculo mi sono perso e mi hanno sgammolato stanno sparando avremmo dovuto portare le pistole lo so ah si scusa colpa di nata non mia si mo che ci ha sgammato che cazzo facciamo nooo si appunto le pistole che cavolo ma perchè non le chiamavi a quell'alte ok stanno guardando dalla mia parte o no si mese si si ok alia 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 un cazzo io e qua ecco così non si vedono aspettiamo che si allontani un po' un altro po' qua ecco qua non si vedrà mai qua siamo ancora troppo sgammabili di qua bene non si troverà più quello lì quello ci ne sono altre mille adesso no per fortuna no eh si sapevo io per arrampicarmi per arrampicarmi li troveremo e li rintiremo di buchi ma sappiamo cosa fa resta concentrato d'accordo ok ecco mozzalo 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 frecali la pistola ci muovemo ci muovemo ci muovemo un po' di intelligenza per dovere ahm mi ci aspettavamo ecco qua va bella benissimo sono in marcia sono in merda, non in marcia qua non c'è nessun tesoro chi è che tira le sgommate? ok, allora so questa azione avventata si repercorrerà su di me in modo terribile ok, non serve più e ma dai, un po' un indizio uno un indizio che cavolo mi sto chiedendo la soluzione del gioco ok, di qua ovviamente è su e cosa? oh, hai voglia di arrivarci qua è tanta storia, senza farci sgommare ok, troviamo un modo un po' avventato di andare di qua saliamo qua non entro ok, se non saranno 500 nessuno mi ha visto in faccia se mantengo la calma uscirò di qui passeggiando no, ci hanno visti ci hanno visti, altro che ok, cerchiamo qualche tesoro qualche tesoro eh, no, era solo un riflesso, peccato ci ho sperato però, eh allora è uscita senza buttare tutto la porta di qua benissimo ora cazzo e tu che ci fai qui? non sono il solo facciamo così non dico niente e neanche tu hai una cosa che mi appartiene e adesso mi lavorai che cazzo vuoi? sono preoccupato no, preoccupato ahia basta qua pesta però, eh se no le prendo ma ricorda non vorrei farlo vediamo che sai fare veramente? no, qua le prendo, eh giuro troppo scontato eh, già non mi riaspettavo sono riuscito a contrattaccare adesso dobbiamo eh, sì, va bene ma è chiaro un calci in culo ogni volta però, eh guarda che ho che cazzo è schiva lì almeno ah, ho sbagliato pulsante e con detta quasi nuovo quasi nuovo come hai fatto a spaccare un tangolo? solo saltandoci sopra e cos'è fatto? sono ancora il jet lag ah, il jet lag contra, contra, contra ai dio, ai, ai allora non l'abbiamo presa neanche una volta e ce ne ha dati chi ha chiarato di chi ha ritrovato continui a fare il turbo continuo mmm ci sti è proprio facendo il turbo che sono arrivato qui mmm si va bene anche te cerca di schivare il calcio non è vero non è vero lol troppo facile si, all'assassin si iscrive che cazzo è ok, ci crede morti quindi è il tempo ok, sono alla macchina dove diamo lo sia è il momento dato questo affare ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross è adorabile lui c'è il caos cercano di tenere la situazione sotto quel ruolo ci ha ampestati peggiosi ma muoviti cazzo Nathan, dove sei? ottima domanda tu? nei pressi della sala da ballo cerca un cartello rotondo sulla strada cartello rotondo? ok la buona notizia è che ho una pistola a dopo ecco ah si è vero ho sbagliato pensavo di essere in caso invece quello che è quello credo che debba andare di qua esatto qua sembra proprio tutto dove sto andando? tutto pianificato per la fuga ma è possibile saldare? eh sì eh ma dai ma che cazzo nessuno eh sì ci hanno sentiti aspetti non le vanno sì ma anche te è una mira da schifo come è il volo? come hai fatto? non vedo niente uno morto e l'altro quasi ce l'abbiamo fatta mi hai fatto lamentare non so come raggiungerti da qui tu riesci a scendere? ehm sì credo di sì ok ci vediamo a l'alto un po' di piccolo saltino e ce l'abbiamo fatta ora aspetta ok possiamo andare a sene giù 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 la salla di vanno non è volata sappiamo che sei qui da qualche parte per te ricevuto giù di qua eh sì giù di qua sbagliato questo qua glielo prenderei alle spalle ma sarebbe un po' avventato quindi aspettiamo che entri nel tunnel sì tunnel cosa sta? esatto però ha funzionato ammettiamolo pieno ok dove era la salla di vallo che mi sono perso di nuovo onore scordo di rientrarmi con tutto sto casino qui eh non è di qua ovviamente ma è di oh io non userei la pistola perché facciamo casino esatto vado di qua ma è stato più facile di aver visto adesso tu vieni giù ok e muore ora giù stiamo giù mi raccomando stiamo giù e cerchiamo di non muovere troppo le erbe se no arriva qualcuno con una buona pistola e ce le da santa ragione come l'ho fatto questo qua ovviamente è del tutto spaisato come ho fatto come ho fatto a non farlo che lo sparo si in faccia si ok anch'io non sono il massimo della copertura però eh morto uno mi mancano due spero non è 222 ecco no no siamo insimali siamo insimali aspettiamo un po ecco qua fatto ok cavolo come l'ho fatto a non sentirmi dare una cosa in tutto ok possiamo andarcene benissimo sì i munizioni mi servono anche qua ah è una scala no perché non vedo niente sala da vallo sala da vallo sala da vallo sala da vallo ah il viaretto è qua bene ah dobbiamo scendere dobbiamo scendere sentite io ci però di qua c'è munizioni pieni pie oh 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 un attimo non mi ero accorto di sti qua cerchiamo di decidere in concreta possibile ho sparto un po' caso lo metto no questi qua erano calcolati nessuno aspetta 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 benissimo questa mi piace il viaretto è questo qua ma non so se ce la riusciamo a scegliere sì sì ce la facciamo ce la facciamo benissimo pesante qualche salto pesante qua non credo ci siano tre guardie la sala da vallo è vicina ah non devo andare nel viaretto arrivo arrivo spostiamo questa e dobbiamo portarla più avanti più avanti un po' più avanti ancora ancora un po' più avanti nascondiamoci qua dietro non ci troveranno mai mai non ci troveranno ci troveranno sì non ci senti benissimo ora dobbiamo uscire quello ne ho uno dietro no è vero aspetta basta che ce ne stiamo nell'erba e non ci prenderà nessuno ora ti ammazzo silenziosamente e nessuno sospetterà di me ok ora cosa dovevo da su da su ancora e sempre più su più su intende devo dire e siamo alla sala da vallo sempre meglio controllare aspetta ma che cazzo ci siamo tornati al punto di partenza aspetta allora cosa serviva la cassa non lo so posso passare un minuto in questo gioco senza perdermi uno un minuto la cassa cosa serve allora non so dirvelo ecco qua x ok non serviva quasi niente quasi eh ma che cazzo aia male come ho chiamato ah sì l'asta è vero morto non ci ammazzeranno non ci ammazzeranno ecco che ho detto io non pensavo di averlo dietro adesso dovrebbe sbucare da un momento all'altro qua dico non mi posso aspettarlo e dov'è posso la fare addosso no davvero dove è andato eccolo qua si lo aveva i appugni contro ecco l'unico mi era proprio eccellente pensate che poi lo faccia la un'asta guardate che casino mettete da lì oh che cazzo vuoi no morda dico gi ecco morto ce ne sono quanti ce ne sono ancora ah in fondo ehi sono in fondo questi co ok in fondo in fondo in fondo dopo una granata reazione sono sempre efficaci questi di fucile come ma si dalla distanza funziona lo stesso vero no non funziona un cazzo siamo totalmente circondati siamo circondatissimi dai vieni qua oh le sto dall'altra parte dove vai e sono un po' concentrato parlo poco lo so perché non so capendo ninja c'è un casino che non potete immaginare quindi due di qua tre di là dovremo andare in fondo l'ho ammazzato alla fine credo di averlo preso si lo so ho sparato alla caccia e se entro volontari per prenderlo ok ok ecco 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 ottima mira era davanti a me come non posso restare oh ok ok dobbiamo restare un attimo che ci oh ma non riesco ad ammazzarne uno eh morto uno e quello là deve morire più impossibile quello di stand là morto andrà lo stesso dalla distanza no ah morto è la parte sbagliata qua avanti 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 prendi tutto prendi tutto e ti arricchiamo con questa due che morto bellissimo eh si c'era un'asta ancora qua adesso abbiamo un'arma decente morto benissimo possiamo andare si si qua servono munizioni meglio ancora oh oh bravo andiamo resisti ragazzo ci sono ecco eh devo seguire la torta non non avevo capito eh io l'ho presi non guidi un carro funebre sbrigati un carro funebre morto ammazzarne ma sti qua hanno proprio una mira precisissima dove vai dove vai vabbè no no scendi giù 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 ormai giù morto benissimo andiamo avanti così e e e non posso assicurare niente e vai signor scoff morto benissimo morto eliminato aspettiamolo no sei troppo notario non ce la facciamo dopo eliminato oh non la ceca ce ne sono più sulla mia sinistra che davanti a me mori 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 oh bene ma come ho fatto a ucciderlo ok cambiamo arma che questa cosa ormai è finita sporgiti un attimo sporgiti e dai è morto vai ok credo sei libero 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 oh non è ancora libero andiamo andiamo cosa pera di tempo cazzo ma va ancora sta roba no perché è presa parecchio male ok si siamo riusciti doveva essere un gioco stelto questo è finito col peggiore dei casini non sarà anche peggiore credo spero di non finire all'inferno ecco vedi che non c'è niente che c'è l'ho rotta l'ho rotta guarda lì dai il solito coglione è proprio bastardo ottimo teschio e ossa incrociate promette bene lo stiamo dietro si promette bene sono un rotino mister L mister L non c'è cosa pensi di quei numeri che significano sarà un codice o un telefono andiamo sono date ma come date 1659 l'anno di nascita di Averi 1699 lo sai fin troppo bene in quello è morto beh secondo moltissimo vuol dire che c'è la data di nascita di morte e il paradiso quindi bisogna cercare la tomba via ok dove va e perché non andavamo la direttamente non sta setacciando quella zona da una vita si la cattedrale vedi questi simboli si si trovano sulle antiche lapidi sconsi si ok eh capito la pianta della zona è piuttosto insolita qui c'è la cattedrale ma il cimitero esce il perito nel cimitero quindi ora dobbiamo fare il rezzatore di Tom ehi ehi no un secondo vi rendete conto che Rave aspetta solo voi si ma ci penseremo una volta lì quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare senza contare che Anadine è il suo esercito dalla sua si ma lui non ha questa abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano si con la tomba trovi i casini che devi andare di là che da di là devi trovare enigmi per enigmi devi per calcare i casini e avanti così e poi alla fine del gioco resti senza niente merda ragazzo e non è così semplice aspetta dopo quello che avete passato insieme questa volta non capirebbe tu la sottovaluti ragazzo non posso correre questo rischio Natana ha ragione le cose sono cambiate c'è di mezzo Rave e posso cavarmela anche da solo vabbè che prima c'era di mezzo Rave però bene grazie per i consigli a tutti e due scusate e la scusa la del co del non mi ricordo più quella del lavoro a Malesia quello che e non andava bene c'è qualcosa che non va amico sono stagno senti io capisco non sia stato facile tutti questi anni lontano e mi spiace per quel che ti è successo ma non è colpa sua questo non l'ho mai detto gli c'è voluto molto tempo per uscire dal giro qualcuno l'ha costretto l'ha scelto lui ok è nato per questo lavoro lo credi davvero madonna perché sei qui Victor? perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle è nato per coprirgli le spalle accettato le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto che è la verità ok allora che ne pensi? cominciamo la Sam serve il nostro aiuto beh ho sentito che il clima è particolarmente mito in Scozia in questa stagione dunque vestitevi bene Scozia arrivati beh Rafe non bada a spese vedo la cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale ma quanti soldi ha sto Rafe? vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi non sospetterà di nulla sali almeno questo è quello che crediamo ok ragazzo buona caccia sei ancora in tempo per venire? no se non c'è un ascensore credo rinuncerò d'accordo ci vediamo dopo ehi Nate e? vedi 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 di portarmi roba luccicante questo è il piano un petto di vetro e qual è il piano? perché c'è un sottomarino? la tomba di Henry Avery ragazzi sappiamo entrambi che non lo faremo adesso quindi sono sul bordo di un burrone non lo sapevo questo aspettate vi lascio i dialoghi che se no mi tocca tagliare anche i dialoghi facciamo tutto intero va bene i dialoghi sono finiti ci vediamo al prossimo episodio e arrivederci visitate anche i nostri altri video per esempio l'ultimo di Portal Combat arrivederci 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 ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti